Oh mio Dio No ma questo dai Questo è carino È morto, è caffcazzo da foto Vedi quei dislivelli lungo la strada? Li vedo anch'io Smerdopoli Stavo leggendo Smeraldopoli Le mosse di Pokémon dipendono dai loro punti potenza Per fare pipì hai i tuoi Pokémon quando ne hanno bisogno Ok ragazzi questa era davvero squalida 92 minuti di applausi Non so noti niente di familiare Io direi di no Non ho mai visto questa città prima d'ora No perché non è Smerdopoli Hai capito Siamo solo degli ignoranti Capiamo che questa è arte Lasciare le città uguali Possimo terzo Se cosa? Mi hanno detto che ci stanno le donne Se può usare Lo PC là nell'angolo Me l'han detto che ci stanno le donne nude Con quale accento? I bordelli sono il massimo Dovrebbe essere ce n'è uno in ogni città Ma c'è Jambalaya No aspetta Dovrebbe essere Una cittazione a maccio capatonda Sai cosa dobbiamo andare a prendere vero? Ah giusto Pacco OCRCEL Ehi tu vieni da Biancavilla Ma perché è sul boncone Beh ci sono gli zombie ovviamente Puoi portarla ad hoc E' una cosa Davvero importante Alpericeve Pacco OCRCEL Pacco OCRCEL Ehi arrivi da Marronvilla vero? E conosci il professor OCRC vero? Ho sempre avuto un debole per lui Vuoi farmi un favore? Alpericeve la passione del commesso Per il pacco di OCRC Alper lo mette dove cazzo gli pare? Vuoi informazioni sulle due specie di Pokémon simili a Brookie? No Oh va bene Ok Paparapà Paparà Paparapà 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 Paparapapà 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 Tieni il pacco Batti sulla merda Gianni Morandi? Never expected Mems Cosa? Hai qualcosa per me? Alperto Mi fermo Quelle non sono Pokéball Sto venendo da piangere Vado a giocare a Fire Emblem Ok? No 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 Tu rimani qua Subisci con me questa tortura Torturiamo un Pokémon È tornato Questo È ciò a cui mi riferivo Quando ho detto Non questo livello di squallore Ho paura degli altri Allora Io Kermit lo voglio Ok Ok Mmm Le belle catture Sì Alleluia Gatti il Kermit S'è stato inserito un po' Kermit è il Muppet più famoso E sta utilizzato come presentatore Del Muppet Show Ok Leggi Diamogli un signore Ok Dio Brando Zawordo Breeze E andiamo Diamo le master tactics Ehi Alp Credo che non sia la strada giusta per ora Cavolo Ash Per una volta Ne dici una Ma è brutto Non è uno sprite È un ammasso di pixel in forme Hai contatore? Davvero? Smettila Sa che sei più Dio Ma smettila Fai azione Stai finito il Ma mi copia le mosse No perché mi copia le mosse Non so perché O che gli ha messo in un livello di high alt Tu Sì Non sono acqua Ah no sono normale Dodge Ora sei elettro Meglio Sì Dio Brando fallisce Ma va bene così Mi ha fatto anche brutto colpo Dritto per dritto Dritto per dritto Buona Vai di pozioni Credo Ce le ho spero Ah Sì ne avevi una Bella Bella Direi Leccata Direi che l'abbiamo vinta per attrito Sì Yes Oh È già tanto Oh ok No ma adesso morirà penso No era un dialogo Che Ah ok Perché stai dando colpo coda Adesso lancio tipo un attacco finale con Lega tutto Non è paralizzato Steamroller Steamroller Guardalo Super Zavarudo combo Devo collezionare le medaglie Solo così diventerò maestro di pokemon Eccolo che riparte Ecco Eccolo riparte Grazie.